Il giro del mondo è in tre chilometri tra piatti tipici, cibo di strada, birrifici e sapori esotici in pieno centro storico. Arezzo è pronta ad ospitare la diciassettesima edizione del mercato internazionale. Oltre 190 gli operatori stranieri provenienti da 35 diversi paesi e 300 gli stand tra cucine lontane e locali che dal 6 all'8 ottobre torneranno nell'area Eden, in via Guadagnoli, in via Nicolo Aretino e in via Margaritone. Crediamo davvero un'occasione importante che si confermerà come lo è stato negli anni scorsi e rappresenterà soprattutto in un momento come questo ovviamente una certezza anche per i movimenti turistici non solo della nostra città. Mercato internazionale sì, ma anche con un occhio di riguardo al territorio e ai prodotti che caratterizzano Arezzo e la sua provincia. La nostra forza è stata quella di inserire all'interno del circuito internazionale, quindi di questi ad oggi 190 banchi che vengono da tutto il mondo, delle specialità e delle eccellenze del nostro territorio. Quest'anno sono 90 i banchi del nostro territorio che propongono eccellenze della nostra zona, più 20 anche attività agricole e anche quelle per testimoniare che insomma nel territorio della provincia di Arezzo ci sono eccellenze molto importanti. E chi viene a visitare il mercato internazionale, chi viene ovviamente per curiosità, per mangiare la paella piuttosto che un piatto greco, piuttosto che un piatto israeliano, quando viene qui poi trova queste eccellenze ed è molto soddisfatto. Ecco questa è una coppiata vincente. Street food, cibi e sapori, ma anche spettacoli, iniziative speciali, visite guidate e shopping. Tanto artigianato, prodotti no food, tante novità da tutto il mondo, ma anche la presenza appunto di eventi collaterali come in Piazza Sant'Agostino, dove grazie alla collaborazione con i commercianti della piazza ci sarà uno spettacolo musicale molto importante, sabato 7 ottobre alle ore 21 con gli Omograuso Live. ConfCommerce insieme agli operatori della piazza hanno regalato quindi in queste tre giorni alla città questo bel evento. Gli operatori di Ombra, come sempre, al servizio della sicurezza della manifestazione. Facciamo del nostro meglio per rendere le situazioni più fluide e tranquille possibile.